Panchine che parlano, con possibilità di ricaricare il telefonino o ascoltare buona musica, città più intelligenti. Sette brevetti sono pensati dalla T-Red, la neosocietà formata da cinque professionisti, pronta a realizzare innovativi strumenti architettonici come un cubo autosufficiente dal punto di vista energetico che ha già incuriosito gli imprenditori di Dubai. La T-Red è una delle tre vincitrici del bando Jovi Impresa, della fondazione Flavio Santi, creata in ricordo dell'omonimo imprenditore di Alseno, titolare di due gelaterie nella costa del Sol. A pensare alla creazione della fondazione è stata la mamma Maria Camorali, di 94 anni, insieme all'amico Gianfranco Curti. Ad essere premiati con 10.000 euro ciascuno, venerdì in municipio ad Alseno, saranno anche l'alsenese Andrea Piccoli, capace di ridare vita a mobili vecchi e usati con un efficace progetto di verniciatura e restauro, e Andrea Asti di Castellarquato, il cui progetto Biocosmetics intende importare prodotti esclusivamente biologici, composti al 95% da petali di fiori per il mondo professionale dell'estetica. È un mercato ancora da sviluppare a pieno rispetto agli altri paesi europei, dove hanno 10-15 anni di esperienza in più, però sicuramente nel futuro sarà una cosa su cui anche l'Italia recupererà il tempo perso, sempre più clienti si stanno informando, sempre più clienti sono alla ricerca di prodotti naturali. Volevo provare per ampliare il mio giro di lavoro ed è andato bene, farei entrare un'altra persona che è in mobilità come occupazione e nel giro di tre anni penserei di allargare un'altra persona da ricercare sempre nell'ambito dell'occupazione di gente che è a casa senza lavoro. Le nostre città sono cambiate molto poco rispetto a quanto è cambiata il nostro modo di vivere, a quanto la tecnologia ha mutato comunque le nostre abitudini, pensiamo che un'integrazione fra il mondo della progettazione, il mondo della ricerca sperimentale, quello degli istituti con cui ci interfacciamo tutti i giorni, dal CNR, RSE, il Centro di Ricerca sul Sistema Energetico, possa dare un aspetto nuovo alle città del futuro.